Io sono Efisia, poi abbiamo Rina, Sara la conoscete, quindi questa giornata che è una giornata dedicata all'emergenza e alla depressione, ma parleremo anche di altre cose, in genere si fa a ottobre tutti gli anni, diversi anni fa ero venuta anche a scuola, c'erano i vostri compagni che ormai sono già diplomati. Io prima di parlare, visto che voi siete adolescenti, per l'adolescenza si intende, in genere uno pensa ad adolescenza dai 12-18 anni, non è così, l'adolescenza è per i maschi fino ai 25 e per le donne fino ai 24, quindi è un'età abbastanza ampia dove le persone, i ragazzi si programmano il futuro, quindi è un'età molto importante. Quindi questa età molto importante chiaramente ci saranno molte emozioni, tra le emozioni vediamo la gioia, mettiamo prima la gioia, la tristezza, la paura, cosa può essere? La rabbia, perché la rabbia molte volte è presente. La gioia, iniziamo a parlare di un'emozione positiva, scriveva Darwin che la gioia è un'emozione la cui rappresentazione, manifestazione comportamentale, è il sorriso, la risata. E poi ci sono le altre emozioni, che sono sempre emozioni primarie. Io prima di parlare di emozioni vorrei invece parlare del gruppo. Se pensiamo al termine gruppo, dal provenzale significa nodo, dal germanico significa matassa. Quindi nella loro accezione positiva nodo e tondo fanno pensare un gruppo. Ecco anche le sedie distribuite in circolo, quindi un gruppo che noi possiamo creare. Possiamo crearlo da qualsiasi parte, a scuola, in una biblioteca, eccetera. Quindi l'idea del gruppo è l'idea della coesione, l'idea della trasformazione. Alcuni ricercatori, tra cui Martin, diceva che il gruppo è una superficie a due facce. Una faccia riflette l'inconscio sociale, l'altra faccia l'inconscio individuale. Quindi è una membrana, uno specchio, che riflette la società esterna, però anche quella interna alle persone, agli individui. Se parliamo di Jung, sto citando soprattutto, Jung è un psicanalista molto famoso, scriveva che però la persona ha necessità di staccarsi dal gruppo. Sì, è importante il gruppo, però c'è l'inconscio cosiddetto collettivo, quindi delle persone, però c'è una fase cosiddetta della individuazione. E soprattutto nell'adolescenza, questa fase è presente, perché nell'adolescenza ci sono altre tappe, che è quello del distacco della famiglia, è quello di crearsi di gruppi, gruppi sia scuola, gruppi amicali. E quindi rispetto a questo, nella fase di individuazione dovremo partire da lontano, ma io vi dico giusto due cose, perché a seconda della scuola, scuola psicanalitica c'è la Marler e anche la Klein, che parlano appunto di un distacco dalla madre, perché il bambino inizialmente è in simbiosi con la madre, un distacco dalla madre e poi ci sono delle fasi che permettono di elaborare, diciamo, dei momenti importanti quando si è bambini. La Klein parla della fase schizoparanoide e della fase depressiva, mentre la Marler parla di diverse fasi, addirittura di quattro fasi, che poi il bambino, man mano che diventa adulto, adolescente, elabora queste fasi. Quindi questo permette alle emozioni, qualsiasi tipo di emozione, di determinare un adattamento, un adattamento a scuola, fuori dalla scuola, con gli amici. Quindi le emozioni che siano, noi abbiamo detto la gioia, però può essere la paura, può essere il disgusto, può essere la rabbia, ci permettono di adattarci a delle situazioni, a situazioni anche molto stressanti. Se pensiamo a questi due anni, insomma, sono stati due anni pesanti, stressanti. Lo stress, come diceva Darwin, può essere positivo finché una persona riesce a reggerlo, però poi diventa distruttivo, nel senso che se non riesce a reggerlo, quindi ad adattarsi, perché è chiaro che in questi due anni, poi voglio sentire voi, c'è stata la paura, c'è stata l'angoscia, la paura della morte, essere rinchiusi in casa, è mancata la libertà, correggetemi se sbaglio, le restrizioni. È chiaro che non eravamo abituati a questo e soprattutto forse non ci pensavamo più, perché l'ultima pandemia, ah Matteo sì, stai facendo vedere, farle scorrere un attimo, l'ultima pandemia, ecco qui, lasciamola anche qui, l'ultima pandemia, se scorri un po' c'è una foto dell'ultima pandemia, però poi torniamo indietro. Vai a un'altra, ecco quella del 1920, c'è anche il gatto, vabbè, penso che sia un fotomontaggio. Ritorna indietro alle prime, ecco qua, possiamo qua. Quindi quello che stavamo dicendo, il fallimento, l'elaborazione delle fasi, certo uno non se li ricorda a quest'età, però sono importanti. Una cosa importante da dire è che prima se una persona poteva avere dei problemi, dico di adattamento, di rendita scolastico o quant'altro, la colpa era sempre delle mamme. Guardo Sara, ma così non è, cioè le figure di riferimento possono essere tante, c'è la mamma, c'è il padre. Molte volte si è, una persona può sentirsi più, diciamo, legata alla zia o altre figure di riferimento diverse, cioè quindi non è certo sempre colpa della mamma, della famiglia e quant'altro quando non si ha un adattamento. Quindi il fatto che non si riesce a superare queste fasi come elaborazione può determinare non un adattamento, per esempio, sia a scuola sia in altri ambiti, a lavoro e quindi uno tende ad, diciamo, vedere le figure di riferimento, gli insegnanti, io guardo sempre Sara, gli insegnanti o anche il preside, il dirigente, come volete dire, come preferite chiamarlo, come figure persecutori. Cioè la paura, l'angoscia, per esempio, una persona non si sente all'altezza di confrontarsi con gli altri studenti e quindi molte volte diceva, sì, ma la colpa è dell'insegnante, vi faccio un esempio, la colpa è dell'insegnante, come sempre sgarbato, ma la colpa è del preside. Quindi effettivamente paure che sono proprio della persona, che si chiama meccanismo di proiezione non solo negli adolescenti, anche negli adulti. Le paure che sono della persona, dell'adolescente o degli adulti vengono proiettate su figure che non hanno quei pensieri. Cioè né Sara, come si chiama? Antolini, sì, ma il nome è Gigi? Luigi. Oppure nel lavoro succede che una persona cambia moltissimi lavori perché non si trova bene dappertutto. Quindi probabilmente ci sono dei conflitti che si è portato appresso nell'età che non ha maturato, che non ha mai visto. Perché nei conflitti possono esserci anche le separazioni, le ferite narcisistiche. Una ferita narcisistica può essere, adesso voi siete ragazzini, magari le prime storie quando una persona viene lasciata, oppure anche familiari quando due genitori si separano. Cioè non è che viene vissuta bene, da tutti intendo. Poi ognuno a seconda della personalità è chiaro che la vive in modo diverso. Quindi queste ferite narcisistiche, se non vengono elaborate, comunque possono portare a tristezza, a malinconia. Poi ciascuno di voi è una personalità. Faremo un discorso lungo giorni a questo punto. E quindi anche le emozioni, il modo di esprimere, il modo di adattarsi alle situazioni è diversa. Non so se sono stata chiara fino adesso, se qualcuno vuole intervenire, oppure magari facciamo scorrere qualche diapositiva e vi viene in mente qualche altra cosa. Ecco, giochi che sfidano la morte. Allora il gioco, come diceva Winnicott, è una fase importantissima del bambino ma anche dell'adulto. Perché poi i genitori poi giocano con i figli, se ci pensiamo. È importante perché comunque da bambini si elabora un ruolo. Se voi pensate ai vostri giochi da bambini, sia i maschietti che le femminucce, a volte erano diversi ma a volte sono anche gli stessi. Cioè, parliamo di bambini piccoli, si travestono, eccetera. Cominciano a pensare anche a cosa vogliono fare. Giusto? Correggetemi, se sto dicendo. Quindi il gioco è importante. È importante perché poi elabora quella che diventerà la motivazione, che ne so, quando si giocava a fare il medico, a fare il poliziotto, a... che cosa giocavate? Non lo so. Eh? Cosa? Non lo sento. Venite qui. Alle Wins spiegatemelo perché io sono in... No, guarda, ho fatto un aggiornamento ieri a San Luri e quindi... Sì, sono dei giochi, sì, mi hanno detto che ci sono dei giochi incredibili e infatti me li sono scritti. E però quella che l'ha citato, vieni qua, come si chiama? Scusami, vieni qua e così ce lo spieghi e entriamo in altri discorsi. Sì, no, ma è meglio che lo spiegano loro. Però ci sono giochi anche diversi. Adesso infatti vogliamo passare tra i giochi. Quindi uno quando gioca ci sono giochi che elaborati servono per la motivazione. Invece se facciamo scorrere, fai scorrere. Se volete io poi vi do questi che parlano di giochi moderni. Vabbè, questi sono sentimenti ancora più giù forse. Vai giù. Tristezza. Ne parliamo poi dopo di nuovo. Qui avete superato tutto. La pandemia. Non c'è niente sui giochi. Sì, mi sembra. Vai più su Matteo. Probabilmente allora non l'ho scritto. Possibile. Ah sì, Marler. Scendi un attimo. Ecco, giochi che sfidano la morte. Infatti non mi sbagliavo. Ecco, giochi che sfidano la morte. Li conoscete? Come no? Eh, sì. Sì, ditti però ne parliamo. Dai. Eh, ma no, non facciamo così Sara. Se inizio io devo comprare io. Poi interveni tu. Vieni, vieni qua. Dai, chi è che ne vuole parlare? Vuoi stare lì? Ne vuoi parlare da là? Diamo un altro microfono. Allora, questi giochi che sfidano la morte. si tratta di giochi, purtroppo. No, non ero io, era lui. Cioè, noi siamo in classe. Questo lo sto tirando l'amore. Eh, è un semplice microfono. Ti do il mio se ti senti. Dai. Tieni, come ti chiami? Come ti chiami? Io. Gabriel. Gabriel. Ecco, ne parla Gabriel. E cosa ne vuoi dire? Cosa ne pensi di questi giochi che sfidano la morte? Grazie. Beh, io ne parlo anch'io. Cosa ne dovrei pensare? Non hanno senso come giochi. Eh, ma cosa fanno? Io non ci ho mai giocato, quindi... Perché giocano da soli o anche... E in gruppo. Anche lì si gioca da soli o in gruppo? Faccio un esempio io così, magari ti vengono... No, mi ricordo che la Blue Way era andata virale sui social. C'erano anche gli hashtag, ma non mi ricordo nient'altro. Beh, allora faccio... Qualche suggerimento io? Questo è ripreso da una rivista... Praticamente questi giochi sono in gruppo da soli, forse da soli anche peggio, perché utilizzano dei foulard, delle corde, eccetera, per stringersi il collo. Quelli che cercano di strozzarsi e si devono liberare all'ultimo. Sì, e si devono liberare all'ultimo. Molti ragazzi sono morti, però. Sono morti perché non ce l'hanno fatta. Altri giochi, altri giochi, quindi se c'è un compagno, se sono in gruppo, se uno sviene l'altro può aiutarlo o peggio, come succede, stanno lì a riprenderli e invece di aiutarlo, perché se si è stretto troppo, chiaramente, il rischio è che poi non respiri più. Poi un altro gioco pericoloso è quello di saltare da un balcone all'altro. Cosa è il parkour? I nomi non me li ricordo perché sono più... certo, potrebbe essere quello. Quello viene visto più come uno sport. Più come uno sport, ma non è pericoloso, è meno pericoloso dell'altro, forse. Vieni qui. Vieni. E non parlare lì, se no non ci sentiamo. No, ma se intervieni, vieni. Fa parte della biblioteca, puoi intervenire. Poi, oltre a quello, c'è questo di mettersi nelle rotaie? Come si chiama? Eh io che ne so, mica lo fascio. Sono tutte le mattine a mettermi nelle rotaie. Vabbè, visto che li conoscete più, hanno dei nomi. Adesso io ce li ho scritti da qualche parte perché ieri abbiamo fatto un aggiornamento e non li conosci tutti. Ecco, perché ce ne sono tantissimi. Poi c'è quello, cos'è, dell'ascensore. Che uno si mette nelle trombe dell'ascensore e anche che passa sui piani. I nomi... no. È pericolosissimo quello, perché se te chiama, rischio di restare scacciato. Io mi diverto in altri modi. Ma infatti, vogliamo sentire gli altri modi. Noi qui abbiamo citato anche i giochi che sfidano la morte. Matteo, vai all'altra diapositiva, forse c'è qualcos'altro. Ah no, questo è... Quindi, secondo voi, questi giochi che sfidano la morte, cioè vi attirano, non vi attirano? No. A noi no, però... Eh, però venite a parlare... Ma comprarsi un monopoli? Beh, dipende. Se uno vuole fare sport, anche lo sport è una cosa molto importante. Però bisogna vedere se si fanno... Anche lì ci sono gli sport, sai, che sono, diciamo, cosiddetti normali e quegli sport invece... Gli sport estremi. Estremi. E quali sono? Vabbè, il paracatutismo... Vabbè, ma il paracatutismo comunque è uno sport estremo che viene controllato. Cioè non è lo sport, per esempio, di alcuni ragazzini... Eh, ma quelli non sono sport, cioè quelli sono... Quelli sono giochi pericolosi, sempre di sfida dalla morte. Secondo voi, lei dice... Tu come ti chiami? Vieni, vieni qua a sederti, vai. Ma cosa devo dire? Quello che vuoi dire? Ma io non lo so. Allora, questi giochi, secondo te, avvicinati bene. Secondo te, come mai i tuoi compagni della tua età si sentono? Matteo, sono attivi anche questi microchi? C'è il suo, se vuole. No, però lo lasciamo per parlare. Allora, secondo te, com'è che certi ragazzi giovani della tua età sono più attirati da questi giochi, invece del paracatutismo, che tutto sommato è uno sport estremo, però è controllato. Cioè non è che rischia uno di morire. Cioè rischia magari più in là quando lo fa da solo. Ma quando si fa da ragazzi, c'è sempre un addestramento, eccetera, si è sempre in situazioni protette. Ma penso perché, cioè, se uno fa queste cose estreme è perché ha bisogno di provare magari qualche emozione forte che nessun altro, nessun'altra cosa gli dà. Cioè se no non ve lo saprei spiegare in altro modo. Cioè nel senso che la gente non è che, boh, non sta bene se fa queste cose. Quindi ha bisogno di qualcosa, qualche mancanza, qualche carenza nella sua vita personale. Però ragazzi parlate qua, se dovete dirvi qualcosa. Brava, bravissima. Dai, dai, però sedetevi. No, io non devo dire. Non devi dire nulla, lo stavi dicendo a lui. No, no, stavamo parlando. Mettiti vicino. No, stavamo parlando degli altri sport estremi. E quali sono? No, stavo dicendo che, ad esempio, il paracadutismo non è uno sport estremo. Ce ne sono altri. Però quello in particolare no. Eh, infatti. Dici quali sono gli altri. Eh, boh, non lo sai. Come non lo sai? Qualcuno che vuole intervenire. Le ragazze, forse sono più esperte su questo. Ormai le ragazze sono... Beh, ci sono pilote, ci sono molti piloti donna e adesso non è più come prima, per fortuna. E quindi se uno fa il pilota deve essere anche in grado, se succede qualcosa, di usare il paracadute. Lì in fondo sento qualcuno che sta chiacchierando. Spostate. Secondo me, se vi spostate, poi riuscite di più a parlare. Lei? Beh, se lei dice così, non... Dimmi il tuo nome. Giulia, vieni qui con me. Puoi dire anche altre cose rispetto ai giochi che possono creare... Voi, cosa intendete voi per emozioni? Ecco, voglio sentire voi. E l'adrenalina che te la manda in giro? Come emozione? Vediamo. La paura. La paura, ecco. La paura ti manda in giro l'adrenalina, oppure anche altre cose. Ma non solo, la gioia. La gioia, bravissima. Anche l'ansia. Però l'ansia ti può venire perché magari hai paura di qualcosa. La gioia lo stesso. Perché quando sei molto contento... Per emozioni io uso la gioia e non la paura. Beh, ma la paura, certo, certo. Però la paura in questi due anni, voi non avete avuto paura per niente? Sì, però... Di che cosa avevi paura? Dai, sentiamo. Del covid, di perdere qualcuno a cui tenevo. Chi è questo qualcuno? I miei familiari, i miei amici, così in generale. Ma per esempio, quando uscivi... Intanto la didattica l'avete fatta a distanza, correggetemi se sbaglio. Però quando uscivi, la tua paura qual era? Di contagiarti? Sì, ma... Di contagiarti. E quindi l'altro... Contagiare me e contagiare chi mi stava... Intorno a tua famiglia? E quindi, quando vi vedavate, evitavate di abbracciarvi, di stringervi le mani? Sì. Cioè... Lei dice il contrario. No, con noi no, ma con... Con estranei sì. Eh, perché si incontrano estranei? No, ma... Il virus, nel liceo scientifico, non entrava. Ecco. No, i più intimi, sì. Siamo rimasti sempre in contatto. Ma solo per telefono oppure vive davanti? No, eravamo chiudi a casa, ci vedevamo per telefono. E quindi cos'è che ha sofferto di più? Questa paura di essere contagiati, ma altre cose qual è che vi è mancato di più? Eh, le relazioni tra amici, parenti, perché stare chiusi in casa... Cioè, penso che abbiamo sofferto un po' tutti. Certo, abbiamo sofferto tutti, hai detto bene. Quindi, la paura, la gioia, ecco, però c'erano momenti anche di gioia che servivano a togliere questa tensione, l'ansia, giusto? Sì, la gioia è stata quando ci hanno detto di uscire, che abbiamo ritrovato amici, parenti, conoscenti, questo sì. Però dopo il tempo. Come ti chiami? Sì, vieni qua, vieni. Ti ho visto che volevi, stavi facendo accenno, non vuoi dire nulla. Io non ti conosco per nome, come si chiama? Elisa, vieni Elisa. Tu come ti sei sentita? Se vuoi stare là, sta all'aria. Come ti sei sentita? Cos'è le cose che ti hanno, diciamo, che ti hanno spaventato? Oppure... Non senti il microfono, no. Già c'è lo squillante, la voce. Mettitelo però il microfono, perché se deve riprendere un YouTube non si sente, hai capito? No, vabbè. Non ti vedono tanto, ti vedono sulla coda. Non lo so. Avevo bisogno della mia famiglia e dei miei amici, semplicemente. E non potevi, cioè, nel senso, la mia famiglia ce l'avevo in casa, ma tipo andare da mia nonna non poteva andarci. Non te lo sta girando. Non potevi andare da tua nonna, perché gli anziani erano quelli più esposti. Esatto. Cioè, esposti quelli erano più, diciamo, più fragili. Sì. Perché i bambini, abbiamo visto che avevano un sistema immunitario, invece, che funzionava abbastanza bene. Mentre gli anziani erano quelli più esposti. Poi, oltre alla paura di andare a trovare, che ne so, i nonni, eccetera, il fatto di non andare a scuola, come l'avete vissuto? Male. Ti dole? All'inizio male. Bene. Che in realtà, penso sia un parere per tutti. Cioè, penso che tutti la pensano come me. Cioè, perlomeno, io non ho sofferto tanto il fatto di non andare a scuola. Cioè, in realtà stavo bene in dad. Sinceramente. Poi sì, vabbè, ritornare a scuola, rivedere tutti i compagni, è stato comunque... Ragazzi, però, lasciamo, sta parlando... Manuela. Manuela, sta parlando a Manuela. Quindi lei dice che non ha sofferto, mi andava bene. Cioè, proprio, era l'ultimo dei problemi. L'ultimo dei problemi. E invece di cosa hai avuto paura? Boh, il fatto proprio di rimanere da sola. Cioè, ok, che c'era la mia famiglia, però comunque, a prescindere, mi sentivo sola. Perché comunque non avevo interazioni con altre persone al di fuori della mia famiglia. Con i compagni di classe, no? Eh, vabbè, sentirsi per messaggio non è come vedersi dal vivo. Certo, certo. Quindi è stato più il discorso della restrizione delle relazioni. Eh, sì. Poi, vabbè, per la scuola, alla fine, ripeterà l'ultimo dei problemi, sinceramente. E la più... C'era quella paura, che ne so, che potesse non finire? Vabbè, quello sì. Quell'incertezza, ecco. Rispetto all'incertezza, come l'avete vissuta? Perché, insomma, è durata parecchio. Cioè, ancora ci sono il vivo, cioè, magari, non è più virulento come prima. Ma, insomma, possiamo stare anche insieme. Però c'è anche... Cos'è la paura che non potesse finire? Sentiamo. La paura che non potesse finire, stare con queste restrizioni. C'è stato un momento in cui ho detto, ma questa non finisce più, chissà quanti anni passeranno. Sì, ebbè, quella è stata una paura di tutti, penso. Perché già siamo stati tre mesi chiusi in casa. Poi, a pensare di passarci anche anni, era... Sì, per me abbiamo passato due anni. Sì. Con le restrizioni. E quindi avete fatto anche... avete riflettuto... Scusa. E poi te lo faccio. Ah, sì. Avete... È acceso? Eh, a ve? Pronto? Eh, questo. Perché tu, Sara, c'hai anche... Sto scherzando. Comunque, ma la paura... Avete riflettuto anche a ritroso, dico... Che ne so, le pandemie... Io ho messo la... La diapositiva della pandemia del 1920, ma le altre pandemie che sono durate anni, che ne so, alla storia... Avete pensato? Avete pensato alle altre pandemie che sono durate anni e anni? Come per dire... Ma, e se noi non ne usciamo subito, c'è invece di due anni, dura quattro, cinque... Ci avete pensato? Beh, allora, io personalmente ho sempre confidato nel fatto che avrebbero scoperto un vaccino. Certo, magari nel 1920 la medicina, la tecnologia non era avanzata come ora, quindi... Però io questa pandemia l'ho vissuta abbastanza in modo tranquillo, perché... Io ho sempre confidato nella medicina, è stato così, adesso siamo tutti vaccinati, bene o male, quindi... Quindi sì, bene. Tu hai detto, ma siamo in una situazione ben diversa dall'ultima, che era più... Cento anni, adesso... Era più difficile uscirne, insomma. Sicuramente abbiamo molti più strumenti e la scienza è andata avanti moltissimo. Però avevamo tutte quelle incertezze, se vi ricordate anche le trasmissioni dei diversi professori che dicevano cose diverse, non vi ha spaventato, no? Ma personalmente... Non le seguivi? No, non le ho seguite, non... Eh, non le hai seguito, ho capito. Ma ho seguito magari qualcosa, ma non mi ha mai... Non ti ha mai scoraggiata, sei sempre stato ottimista, hai detto, ma noi fino a... Cioè, sono passati cento anni, siamo in una situazione totalmente diversa, con i vaccini, eccetera, ce la caviamo. Altre persone lì? Volevo far parlare anche agli altri. Mi alzo io? Dai, dietro, dietro che non abbiamo sentito nessuno. No, lo voglio! Sara, devo dirigere io? L'hai capito? Poi fai tu. Dove si è fermato il microfono? Come l'avete distrutta? Come se ne puoi mettere un filo? Un dieci. Dai, chi? Lei? Io, nono. Dai, cosa succede? Sicuramente non ci contagia, ci contagiamo? Ci contagiamo col virus? Sono diodeno disinfettante. Eh? Adesso, allora, chi sta parlando lì? Se no do il microfono a qualcuno? No, ma prefetto, io non riesco a parlare. Allora, qualcuno di voi? Aveva detto... Eh, adesso lo facciamo più. Però io ce l'ho, scusami. Poi, dopo, a te. La prestazione. Dai, no, no, voto qui non ce l'è. Eh, io avrei eliminato anche gli insegnanti, sto scherzando. Sto scherzando. Non vi girate, per favore. Non vi girare, mi senti. Dai, sentiamo. Come ti chiami? Sara. Allora, Sara, dici tu le tue impressioni rispetto a quello che stavano dicendo anche gli altri. O cose nuove? Quello che vuoi dire. No, che sinceramente io durante i due anni di pandemia non ho avuto paura. Ho avuto più ansia che paura. Ma l'ansia non era di pesa dalla paura, perché... E cosa era la gatta a quest'ansia? Riesci a identificarla? Ok. Cioè, a un certo punto la mia realtà è stata stra... Come si dice? Stravolta. Sì. Perché comunque da una vita normale mi sono ritrovata chiusa in casa, dove non avevo i miei spazi, dove non avevo niente. Poi sono uscita, non è che fosse meglio. Io, quindi, però non ho mai pensato che potesse durare chissà quanto tempo. Ma la tua ansia a cosa è dovuta? Hai pensato a cosa era dovuta? Al fatto che stavi in casa? Al fatto che avevi paura di essere contagiata? No, di quello non mi è mai interessato molto. Nel senso, se doveva capitare, stava, non mi interessa di quello. Però... Infatti, forse dal fatto che qualcuno mi obbligava a stare chiusa in casa, Cioè, perché un contesto lo decido io, un contesto se me lo impongono. Certo. È capitato, adesso capita che ti viene l'ansia. Cosa intendi per ansia? Ti viene l'attacchi cardia? Ti viene... Qualcuno che magari ha avuto attacchi di panico in questo periodo? Hai avuto attacchi di panico? No. Non mi va di parlarne. Ok, va bene. Perfetto. Allora, qualche altra persona? Vuoi dire altro? Eh, vabbè, se non è... Allora, qualche altra persona? Chi è che voleva qui? Qualcuno voleva parlare. Ecco, chi era? Come ti chiami? Aurora. Aurora, dai, sentiamo Aurora. Allora. No, cosa devo dire? Sì, sì, funziona. Funziona. Sì, sentiamo. Sì, sentiamo. Sì, sentiamo. Sì, sentiamo. È bello. È una canzone, volete. No, è una canzone. Non so cosa... Se l'hai vissuta male o bene? Ah, io bene. Anche tu l'hai vissuta bene. Potete parlare... Stiamo parlando, dobbiamo parlare delle emozioni anche del gruppo. Siamo finiti a parlare della pandemia, perché è chiaro che in pandemia si erano un po' isolati. Poi parleremo del gruppo. Abbiamo provato a iniziare a parlare del gruppo di amici e quant'altro. Di cosa vuoi parlare? Della pandemia oppure... È uguale. È uguale. Dì, ascoltiamo. Mi chieda a lei. Cosa devo dire? Di quello che ti senti. Eh, non lo so. E io l'ho vissuta bene perché ero a casa mia, nel letto. Ecco, stare a casa tua nel letto ti senti al sicuro e l'hai vissuta bene. Sì. E quindi non ti mancavano né i compagni di classe? Ti mancavano? Assolutamente no. No, no, vabbè, sì. Lasciate parlare lei, scusate. Ti mancava? Più o meno. Che cosa? Ma tanto non ero manco in classe vostra. In prima. Ah, adesso. E' basso. Paura non ne hai avuto? No. Nulla? Nessuna paura? No. Neanche di uscire? Quando uscivi avevi paura di essere contagiata? No, di essere contagiata no, ma di contagiare forse. Di contagiare tu? Quindi più la paura, ma di contagiare tu i tuoi amici oppure la tua famiglia? Boh, a tutti penso. Ah. Va bene. Oltre alla pandemia, rispetto alle emozioni, che emozioni hai avuto quindi in questa pandemia? Paura? Mi hai detto che non ne hai avuto. La paura di contagiare gli altri? No, nessuna emozione. Nessuna emozione? Nella rabbia, nella tristezza? No. Come vediamo lì? No? E poi è indifferente, tanto ero a casa. Ecco, per te la casa è un punto di... Da quello che ho capito, corregimi se sbaglio, è un punto in cui ti senti al sicuro. Sì. E quindi tu dici, ero a casa, quindi non ti sei messa il problema che non poteva finire, che stare a casa tanto tempo, poi alla fine sarebbe stato pesante, noioso. Boh, no, io mi diverto a casa. Ah, bene. Quindi la casa la vivi come un posto dove ti senti sicura e ti diverti, quindi non ti annoi. Perfetto. Chi vuole parlare tra di voi? Mi devo alzare io. Miriam? Dai. Facciamo un giro. Chi mani i bacini? Dai. Miriam, sì. Sì, volevo rimanere anonimo. Fai? Beh, allora, io non voglio parlare per me stessa, no? Voglio parlare per tutte le persone che probabilmente hanno vissuto la mia situazione in questa pandemia. Più che paura per il covid, rabbia per il covid, io provavo terrore e rabbia per situazioni mie personali in famiglia. Quando tu ti trovi rinchiusa dentro una casa, dentro quattro mura, con un mostro, fondamentalmente un mostro, tu non hai più paura di quella malattia. Ma tu speri che probabilmente quella malattia ti colpisca e ti porti via in un certo senso, no? Quindi non parlo per me stessa, ma parlo per le persone che hanno vissuto una cosa del genere. E niente. Però del resto non ho avuto paura del covid. Ma posso farti una domanda? Stai parlando per altre persone. Questo mostro chi sarebbe? Se non è il virus? Il mostro sono le persone che purtroppo... Come lo posso spiegare? Spiegalo come vuoi. Se vuoi venire qui... Magari... Ah, preferisci parlare da là? Dai. Va benissimo. Chi è questo? Allora, sarà molto chiara. Per me il mostro è stata la persona che ha fatto più male alla parte più fondamentale della mia vita. Ovvero mia madre. Quello per me è stato il mostro più grande di tutti. Cioè non covid, non malattie, non stare rinchiusa dentro casa. Perché poi diventa una situazione pesante stare dentro casa. Nel senso, tu sei dentro casa con una persona che vedi che fa del male a te, a tua mamma, alla tua famiglia comunque. A ciò per cui vivi. Quindi speri che quello che c'è al di fuori, di casa tua, finisca presto. Per poter un po' evadere. Quindi io diciamo che di questa pandemia ho sofferto moltissimo. E una delle cose più care che io ho perso probabilmente è la mia lucidità mentale. Cosa intendi? All'interno della pandemia, quando tu vedi, scusate se ripeto tante volte. No, no, tu fai sì. Allora, quando tu vedi... Lo vuoi dire tranquillamente. Quando tu vedi quindi questa determinata situazione, perdi un po' di quello che è la tua gioia, la tua serenità, la tua pace, la tua tranquillità. Non trovi più uno spazio tuo. Non chiudi più. Dormi, come si può dire, dormi con un occhio aperto. E con le orecchie sempre all'attenti. Quindi perdi un po' anche della lucidità mentale. Perché non dormi, magari stai sempre attento. Hai paura comunque. Soffri. Di cosa avevi paura? Cosa poteva succedere? Del male. Del male che lui poteva infliggere a mia madre. E quindi è questo signore che è il mostro. Io lo chiamo signore, tra virgolette. Il mostro era più semplice per me. Eh. Definirlo così. E quindi avendolo in casa tutto il giorno, la possibilità che potesse fare... E che potesse fare del male a voi, anche a tua mamma, poteva essere maggiore. Perché eravate rinchiusi in casa. Esatto. E quindi l'hai vissuta più pesantemente. Quindi la casa non è vissuta in questo caso, a differenza della tua compagna, come un posto sicuro, dove uno stava bene. Invece è il contrario. Il fatto di avere questo mostro dentro casa, non facciamo nomi, tra virgolette, era peggiore del mostro che era fuori, che era il virus. Esatto. E quindi la tua preoccupazione, cioè prima finisce, prima finisce questa situazione. Però non sapere neanche cosa poteva succedere in casa. Appunto. Io non ti chiedo di più, se vuoi dire altre cose le dici, però sei stata molto chiara. Quindi, cioè, io non parlo per me, ma parlo per tutte le persone. Capisco le persone che hanno vissuto una cosa del genere. Certo, anche secondo me, molte persone hanno vissuto, sono tantissime, sono d'accordo con la dottoressa Pileri, sono tantissime, perché quando si lavora, quando si esce, eccetera, se c'è questa persona, chiamiamoli mostro, tra virgolette, in casa ci si vede poco, e quindi le situazioni si dilattano, si dilattano nel tempo, proprio, ma invece quando si è costretti a stare in casa, il tempo si ferma, diventa stagnante, come succede per un depresso, che non c'è, quasi non c'è una progettualità, perché poi il virus, non sapevamo quando ci potevamo uscire. Questo mostro, come diceva la dottoressa Pileri, purtroppo tante famiglie hanno avuto questo mostro dentro casa, che non era il virus, ha creato grosse problematiche. Perché molte volte anche sta richiuso in una casa, se una casa poi è piccola, ancora peggio, perché magari una casa grande c'è la possibilità di utilizzare più spazi, se la casa è piccola, invece diventa quasi una trappola, perché poi ci si incontra ogni, sempre, quando si vorrebbe non incontrarsi. Altre situazioni così, anche se non scendiamo nei particolari, chiaramente. Quindi questo, Matteo, se mi fai scorrere un po' le diapositive, quindi sentimenti di perdita, sicuramente anche se uno qui, c'è una ragazza che sta fuori, ma questi sentimenti di perdita, inutilità, disperazione, turbe del sonno, la tristezza, si possono accompagnare una situazione del genere. Una situazione del genere, chiaramente, può portare anche a deprimersi, perché non sono situazioni facili. È una situazione in cui lo stress è costante, la paura, l'angoscia, l'incertezza di quello che può succedere. Scorri ancora. Quindi, in questa situazione, che non è solo la sua, ma di tante altre persone, magari non sono qui, ma fuori di qua, chiaramente, sono meglio le restrizioni che ci sono a scuola. Andare con la mascherina, incontrare i compagni, che comunque, magari, possono fungere anche da sostegno. Capita a voi che poi, in gruppo, uno sostiene l'altro? Sentiamo. Cosa intendete voi per sostegno? Adesso, senza fare, ripetere il nome della vostra compagna, in una situazione del genere, lei viene e parla, cosa fa? Da amico? Sì. O compagno di classe? Certo. Cerco di aiutarla, di... Di dare cose. offrirle il mio appoggio per qualsiasi cosa. C'è anche il semplice fatto di ascoltarla, comunque, ho già un aiuto, perché comunque lei si sfoga. E c'è. E quindi, già sfogandosi, si sente più libera, insomma. Certo. Vi capita questo a scuola? Ci sono dei gruppi così? Cioè, nel senso che fate il gruppo, c'è qualcuno che sta male, vi dice una cosa, una situazione particolare, e quindi cercate di incoraggiarlo? Sì. O può succedere? Succede, certo. Fuori dalla scuola, i cosiddetti gruppi amicali, succede oppure no? Perché più fuori dalla scuola. Ah, più fuori dalla scuola. Sì. Perché forse a scuola non avete tempo. Principalmente le classi, anche quella in cui sono io, allegato l'anno scorso, gli anni prima, non è che fosse una classe che sia quantunita, quindi per dire, se io avessi mai dovuto avere un problema, avrei preferito parlarne con i miei amici più stretti, fuori dalla scuola. Fuori dalla scuola. E magari adesso uno si sente anche più a suo agio a parlare anche con i compagni, perché ci si vede ogni giorno, però... Cioè, il tuo gruppo amicale, cioè, un gruppo di amici su cui confidi, quando hai un problema. Sentiamo qualche altro... Ragazze lì vogliono parlare, io vedo qualche ragazzo lì in fondo, così un po' per coinvolgere tutti. Mi alzo? Alzati tu. Li conosci? Li conosci? No. Eh, sì, fai. Dove finisce, finisce. Se finisce lì, ecco, è finito lì. Sentiamo, di quello che vuoi parlare? Come ti chiami? Stefano? Stefano. Allora, in realtà io la quarantena l'ho vissuta abbastanza bene, perché sono stato fortunato. Abitando in campagna ho potuto anche avere degli spazi in cui muovermi, diciamo, liberamente. Certo. Le restrizioni, cioè, la paura di uscire c'era e non c'era, nel senso, principalmente avevo paura che magari nella zona rossa mi beccavano i carabinieri. Ah, ecco, questa era una paura reale. Ma perché, abitando in campagna, perché facevano controlli anche in campagna? No, però ad esempio la mia ragazza abita a Porto San Paolo e per andare là non potevo, in teoria. In teoria, però, ci andavi uguale. sì, prendevo le strade dove non c'erano carabinieri. Però è stato un periodo abbastanza triste, anche per... Fatevi una bella risata catartica, nel senso che poi lo stress viene meno, anche perché qui non ci conosciamo tutti, giusto? Vi conoscete tutti, no? No, Mi ha solo ricordato che su YouTube, quindi... Ah, che siamo su... Io me ne sono proprio dimenticata. Ah, beh, si scherza. Comunque, è stato un periodo abbastanza triste, anche perché ho fatto gli anni in quarantena e quindi non ho potuto festeggiarli con nessuno a parte la mia famiglia, che stando quasi un anno rinchiuso in casa solo con la tua famiglia, anche quello diventa pesante. Certo. Passo la parola a Matteo Giacchetto. Nomme e cognome! Così, sei identificato! Tanto ormai i carabinieri non ti vengono più a cercare. Inizia a salutare, amicinato. Guarda la differenza con il capello, i tre cammini scolgono. Dai, parlo della mia esperienza in quarantena. Allora, è uno dei periodi più belli della mia vita. Ah, ecco, bene! No, ovviamente scherzo, però mi sono rilassato. Sono rilassato davvero tanto. Poi a scuola non contavano le assenze quindi entravo in video lezione un giorno sì e sei no. Ecco, bellissimo! Avevo sempre qualcosa da fare, non mi annoiavo mai diciamo. E quindi per te è stato un bel periodo? All'inizio, poi dopo un po' casa mia è diventata un po' una giungla. In che senso? Anche tu in campagna? abito vicino al parco. Ah, ebbè, il parco? È in modo retorico. in modo retorico. Diciamo che c'è stato un periodo in cui con i miei genitori non ci potevamo vedere, non letteralmente, però stare in una casa con tre persone, vedere le stesse facce ogni giorno non è tanto bello. Ecco, nel senso troppo troppo pressante. Ogni giorno vedevo mia mamma e mio babbo, quindi... Beh, certe persone sono felici di vederle tutti i giorni. Cioè, bisogna un po' alternare secondo me. Eh, bisogna avere i propri spazi. Sì, sì, sì. Siete d'accordo con questo dei propri spazi? Cioè, però, passa il microfono a queste ragazze che sono d'accordo con gli spazi. Oppure, lui, lui che vuole parlare? Giuseppe? Chi è? Dai. Io personalmente l'ho vissuta abbastanza male. Cioè, all'inizio ero contenta ovviamente, perché non si sapeva che sarebbe durata così tanto. Non so se ho usato i verbi giusti. No, non preoccuparti, non preoccuparti. È l'ultimo pensiero. Quindi, vabbè, all'inizio ci stava perché comunque non facevi niente. L'ho presa come una specie di vacanza, però poi dopo un po' è stato pesante perché comunque non avevi, non potevi avere interazioni. Io ogni tanto uscivo lo stesso faremo una passeggiata che se non avevo il cane, però tutti avevano il cane, tutti si sono presi il cane. Uscivo ogni tanto ma non potevo avere granche interazioni quindi si è ridotto tutto al telefono che è una cosa positiva perché comunque ti ha la possibilità di parlare con qualcuno però è un po' fittizio, cioè un po' ovviamente diverso. Secondo me col tempo ha fatto perdere anche la capacità di relazionarsi in maniera spontanea con la gente. Certo, sì, sì, per certe persone sì, è stato così che uno perde la spontaneità. Poi c'è il rischio anche di essere contagiati. Certe persone l'hanno vissuta con paura, cioè vedere l'altra persona come un nemico, cioè nel senso si avvicina mi contagio. Sì, questa cosa è vera però io personalmente ho detto che comunque non ho persone deboli che mi stanno vicino e non avevo chissà che... Quale paura? Certo, non avevi la nonna magari vicino quindi dici non posso contagiare mia nonna che è fragile e quindi può morire come ha detto qualche altra persona. Sentiamo un po' qualcos'altro. Poi se no possiamo... No, ma perché? Siamo a te. Ma perché? Ah, prima lei. Prima lei. No, io non parlo. Dito che ti prego. Allora, io durante la pandemia l'ho vissuta all'inizio bene come sta dicendo qualcun altro e poi in realtà subito dopo l'ho vissuta male perché passavo le giornate o all'inizio anche a portare il cane così a passeggio poi mi sono staccata anche di quello perché alla fine anche quello diventa routine e diventa sempre la stessa cosa anche perché non potevi andare chissà dove sempre nei pressi di casa tua quindi alla fine diventava tutta la stessa routine e alla fine è diventato letto e basta cioè dormivo e boh infatti... non tutto il giorno non tutto il giorno però praticamente sì e il cane non protestava no? no vabbè c'era qualcun altro che lo portava per esempio io ho avuto sempre la mia stanza comunque abbastanza grande confortevole esatto quindi quando evitavo era meglio i contatti anche con la mia famiglia perché è stressante dopo un po' vivendo con mio fratello e mia sorella una mia sorella molto più grande mio fratello molto più piccolo quindi è è stancante dopo un po' di tempo quindi mi relegavo il mio tempo nella mia stanza e e stavi da solo sì io dormivo praticamente infatti smettevo anche di andare a scuola penso se non fosse stato per la promozione non credo neanche sarei passato la classe dopo perché non frequentavo praticamente più le lezioni ma è stato per la pandemia o perché comunque già questa cosa della scuola non eri molto interessata in realtà a me piace andare a scuola io preferisco andare a scuola che andare in DAD nel senso che in DAD ti sei rilassato troppo no rilassato anzi stressato mi stressava le scadenze per esempio consegnare i compiti online queste cose così mi trovavo molto più stressante di andare a una verifica in classe oppure un'interrogazione orale in classe certo mi trovavo molto più stressante avere delle date fisse con delle scadenze magari per un compito anche negli orari eccetera e niente quindi lo trovavo la DAD molto più stressante preferisco molto di più andare a scuola rispetto a come dicevano altri prima niente va bene queste ragazze non così facciamo un giro qui poi facciamo parlare Sara che tanto è eh non lo so evidentemente ha avuto un imprevisto perché dopo te lo spiego passi cioè queste ragazze volevano dire qualcosa no uno non si deve sentire che deve dirlo per forza voi in fondo no Sara vedi tu sono tuoi studenti questi la tua classe eh sì dai adesso vi passo alla vostra insegnante quindi oh che è Filippo cosa devo dire sono Filippo qual'era la domanda stiamo parlando di emozioni di gruppi e di quale restrizioni le restrizioni che avete che avete avuto nella pandemia cosa a determinare come ve lo siete vissuto quale emozioni perché abbiamo visto che sono molto variegate ognuno di voi ha un'esperienza diversa e un modo di di esprimerlo anche in modo diverso io la pandemia non l'ho vissuta male perché comunque vedevo la casa come un posto sicuro ecco e però non era bello neanche andare a scuola cioè la dad non mi faceva schifo ecco però cioè non vedere neanche i compagni dal vivo era molto strano per le amicizie invece comunque si deve formare un gruppo classe alla fine per forza perché vedi tutti i giorni le stesse persone e si deve per forza creare però comunque per me i nuclei maggiori più importanti di amici sono al di fuori della scuola ok sentiamo adesso Sara se tu vuoi intervenire che magari conosci di più tienimi per fare domande no domande no se voglio inizio con la mia presentazione ok un po' mi discosto da quello di cui stiamo parlando però ritengo che l'alimentazione rientri tra quegli aspetti che è necessario curare se si vuole stare bene e in salute allora Grazie. 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 Non genetico, non trasmissibili per via di patogeni, quindi virus o batteri. Quindi ci sono malattie? Sì, alcune forme di diabete sono trasmissibili, però io sto parlando di malattie croniche legate a cattiva alimentazione e sile di vita scorretto. Ce n'è una che è stata inserita per errore, che sono i disturbi del comportamento alimentare. I disturbi del comportamento alimentare hanno un'origine completamente diversa. Non rientrano sicuramente tra quelli causati da una cattiva alimentazione e sile di vita scorretto. La cattiva alimentazione e lo sile di vita scorretto è una conseguenza del disturbo dell'alimentazione, cioè viene dopo. Sono tante le cause delle malattie croniche, qui le vedete, ma esistono anche dei fattori che noi possiamo modificare. E quali sono? Sono l'alimentazione, l'attività fisica e il consumo di tabacco. E tanto su quello poi mi fermo. Allora, l'uomo si è evoluto, ma ci sono stati anche dei cambiamenti nello stile di vita e nelle abitudini alimentari. Quindi si è passati dall'uomo primitivo, l'uomo moderno e poi a causa di abitudini alimentari scorrette e sedentarietà si è passati a quello che è l'uomo McDonald's. Che qualcuno conosce bene. Allora, cosa dobbiamo fare perché il nostro stile di vita sia corretto? Allora, qui c'è scritto bilanciamento tra calorie introdotte e spese energetica. Cosa vuol dire? Che noi dobbiamo mangiare quello di cui abbiamo bisogno, non di più né di meno. Deve essere adeguato l'apporto di verdure e frutta e questo lo sapete lo stesso, anche se capita che spesso le verdure si dimentichino, la frutta magari me la mangio un altro giorno. L'attività fisica deve essere regolare con intensità moderata, perché basterebbe fare una camminata tutti i giorni di 40 minuti a passo svelto. Però spesso per pigrizia si fa, no dai la facciamo domani, oggi è una brutta giornata, c'è freddo. Evitare comunque non fumare o smettere di fumare. E per quanto riguarda l'assunzione di alcol, anche qui ci sono delle limitazioni, nel senso che nei maschietti non si dovrebbe assumere più di 40 grammi al giorno di alcol, che corrispondono a due bicchieri di vino. Stiamo parlando di persone che però hanno più di 18 anni, ok? Nelle femminucce invece l'assunzione di alcol non deve superare i 25 grammi. Mezzo bicchiere di vino ai pasti, ok? Assunzione di caffeina, anche questa non dovrebbe superare i 300 mg al giorno, che sono grosso modo 3 caffè. Invece spesso se ne bevono più di 3 al giorno. Poi, corretto stile di vita significa anche sonno regolare, e per quanto possibile gestire lo stress. Allora, questo punto l'ho voluto mettere in evidenza, perché sento spesso parlare tra i ragazzi del consumo di alcol. Allora, perché l'alcol fa male? Allora, l'alcol apporta energia, 7 calorie per grammo. E queste calorie che noi assumiamo non servono a niente, perché non apportano nessun beneficio al nostro organismo. Un eccesso di alcol porta solo ad accumulare del grasso, quindi a fare le riserve. In più, se voi consumate bevande tipo i cocktail e altri intrugli vari, oltre a quelle calorie dell'alcol, ci sono anche calorie legate agli zuccheri contenuti nei superalcolici. Allora, qui ho fatto degli esempi, no? Per capirci. Perché vi capita di uscire, soprattutto a quelli di quinta, quelli di terza, mi auguro di no. E vi capita di... Un calice di vino rosso, 120 kilocalorie. Però guardate il limoncello, il bailis, andiamo intorno alle 300 calorie. 300 calorie in un bicchierino così piccolino piccolino. Considerate che un piatto di pasta al sugo, 70 grammi, sono un 360 kilocalorie. Quindi voi vi state... State assumendo un piatto di pasta. Però in realtà non è pasta quella che state assumendo. State assumendo alcol, che è una cosa peggiore. Nel senso che non vi serve. E poi... smettere o comunque non iniziare a fumare. Tu lo so. Allora, la cosa che vi volevo dire dell'alcol, per capirci, che in un... in 300 ml di birra, ci sono circa 12 grammi di alcol. E la stessa quantità la trovate in un bicchierino di quelli da 40, di superalcolico. E la trovate anche in un calice di vino, fondamentalmente. Per capire le quantità. Dimmi. Allora, la differenza sta che l'alcol cosa contiene? Mentre tu nella pasta tu contieni i carboidrati, contieni i carboidrati, le proteine che servono al tuo organismo. Nell'alcol non c'è niente che serve. Si parla di calorie futili. Futtili perché sono inutili. Alla fine l'eccesso o vai in coma etilico quando ne consumi una quantità eccessiva, oppure quello che consumi viene accumulato come grasso. E quindi aumenti anche di peso. Facilmente, perché se un bicchierino di limoncello sono 300, uno se ne prende due e già siamo oltre. Ah, un'altra caratteristica dovrebbe essere la dieta equilibrata. Cosa vuol dire dieta equilibrata? Adesso qui non so. Ci deve essere di tutto un po', nella giusta quantità. Cioè, sì. Quando all'inizio dicevi che noi dobbiamo mangiare quello di cui abbiamo bisogno. Sì. Ora, questa parola bisogna, uno dice, vabbè, ma io ho bisogno di mangiare 500 grammi di pasta. Esistono delle quantità. Come, nel senso, che quella parola bisogno non è quello che mi sento. è un qualcosa che è legato anche a dei valori che poi adesso vediamo. Cioè, esistono delle regole da rispettare anche lì. Delle percentuali in una dieta sana. Poi io dico sempre che bisogna mangiare di tutto un po'. Nelle diete non è che io mi tolgo quello e non lo mangio più. Mi tolgo i carboidrati e così dimagrisco. No. Ci deve stare i carboidrati ma nella giusta quantità. Senza esagerare. Perché, come stavo dicendo prima, lo diceva Ippocrate. Lavorare, mangiare, bere, dormire, amare, tutto nella giusta misura. Poi la giusta misura esiste. Adesso quando parlo della dieta mediterranea ne approfondisco quell'aspetto. Dimmi. Per te sì? Aspetta, aspetta. Eh, questo è quello. Cosa devi fare se mangi 100 grammi di pasta? Eh, se tipo mangi 100 grammi di pasta e dopo ancora ha fame mangi una frutta? No, non devi mangiare. In teoria in un pasto ci deve essere tutto. Quindi ci deve essere i carboidrati, la pasta, il secondo, che possono essere proteine sotto forma di carne, di pesce, le verdure e la frutta. E ti assicuro che se tu mangi tutte queste cosettine alla fine non hai fame. La fame viene se mangi solo la pasta. A ogni pasta. Sì, poi dipende. Ci può essere anche solo il primo, la verdura e la frutta, però verdura e frutta sempre a tutti i pasti. Mai dimenticarla. non vuoi il microfono. No, a scopo, è per condizio oggi, come ce l'ho io, anche tu. Bene. Sfatiamo questo mito della frutta che dopo i pasti fa ingrassare. Esatto. Lo sfatiamo o me lo confermi? Lo sfatiamo perché la frutta ci vuole. Perché io non la mangio mai a prescino. Almeno che non ti diano problemi di gonfiore addominale. Allora dico, se avete problemi di questo tipo, si consuma lontano dai pasti. Però, se uno la mangia, sta bene, ai pasti la frutta ci deve essere. Certo, non parliamo, non so, dopo scena di una banana o di mezzo chilo d'uva, questa roba troppo. Un frutto. Un frutto. La mela. E vabbè, anche che adesso... Un kiwi. L'arange. Due, dipende dalla quantità, dalle dimensioni anche del kiwi. Quindi comunque non è corretto. È corretto, ci devono essere sia verdura che frutta sempre al termine del pasto. Se non viene fame, perché mangiare solo la pasta fa questo. Grazie professoressa. Grazie. Grazie a te. Allora, qui dice che la dieta mediterranea è una dieta bilanciata. Però questo non lo dico io. Poi vi spiego, ci sono anche degli studi che dicono questo. Allora, secondo questa dieta il 55-60% del nostro fabbisogno energetico dovrebbe essere coperto dai carboidratti. Pasta, pane, patate, o che riso. Mentre il 15-20% da proteine, questi sono dei numeri, lo so, sono un po' noiosi, 25-30% da grassi. Però queste sono le quantità che effettivamente devono essere rispettate in un'alimentazione corretta e bilanciata. I grassi, io intendo i grassi di condimento. in genere gli oli, eh. Allora, qui ci sono alcuni piatti della dieta mediterranea. Come vedete non c'è soltanto la nostra pasta al sugo, ma c'è per esempio la paella, l'insalata greca, la pasta fagioli italiana. Questo perché per dieta mediterranea si intende quella dieta che riguarda tutti i paesi che vivono che sono bagnati dal mar mediterraneo. Ok? Un'altra cosa che volevo dirvi e che non vi ho detto è che la dieta mediterranea è quella che viene fatta con i prodotti del posto. Quindi a chilometri zero. Nel senso l'olio extravergine di oliva del olivetto di Padru e il pomodoro dell'orto di Berchida non prodotti di importazione perché altrimenti veramente non è una dieta mediterranea. che quindi oltre agli aspetti che abbiamo visto prima attività fisica alimentazione corretta non dobbiamo dimenticare l'acqua almeno un litro e mezzo due di acqua al giorno poi molti di voi sicuramente non la bevono si dimenticano di bere magari bevono altre cose tipo coca cola aranciata succhi di frutta però l'acqua è l'unico l'unica che veramente dissetta e poi è priva di calorie allora come dobbiamo mangiare questo è un po' quello che mi chiedeva la collega esiste la piramide alimentare allora voi di quinta l'avete fatta questo aspetto qui con la vacirca l'anno scorso ve lo siete già dimenticato ah e poi chi avete e allora l'avete fatto comunque voi con la vacirca l'avete fatto allora la piramide alimentare ci dice quando consumare gli alimenti con quale frequenza quindi in basso troviamo quelli che dovremmo consumare in maggior quantità e in cima abbiamo quelli che dovremmo consumare in quantità molto limitate allora come vedete alla base abbiamo l'attività fisica quotidiana poi abbiamo i carboidratti frutta verdura legumi piccole quantità di olio extravergine di oliva di formaggi e yogurt questo è il consumo quotidiano quello settimanale riservato al pesce le carne bianche le uova in cima abbiamo i dolci allora i dolci dovrebbero essere consumati aspetta che vi dico anche della carne abbiamo i dolci che dovrebbero essere consumati una volta alla settimana cosa che non avviene mai allora una cosa che sicuramente tutti quanti avete visto è che in cima c'è a questa piramide la carne perché c'è la carne rossa secondo voi eh quella è carne rossa la bistecca sì allora perché nella via la dieta mediterranea non si consumava la carne come la consumiamo noi tutti i giorni pranzo cena si consumava ogni tanto poteva essere ogni due settimane una volta al mese adesso non dico che noi dobbiamo fare così però sicuramente consumarla una volta alla settimana la carne rossa sarebbe meglio e preferire magari alimenti come il pesce che so che da faccia di qualcuno non piace e le carni bianche poi qui dice sempre almeno sei bicchieri di acqua al giorno e vino con moderazione ok allora come per l'alimentazione esiste una piramide anche per l'attività fisica quindi sempre abbiamo in basso quello che dobbiamo fare tutti i giorni camminare prendere le scale invece dell'ascensore io sono anziana avete ragione e in cima c'è quello che dovete fare il meno possibile quindi stare davanti alla tv videogame quello è quello che dovreste fare il meno possibile ok allora qui non vi spaventate quando vedete queste cose tanto ve le spiego allora in questa immagine viene rappresentata quella che è la prevalenza dell'obesità nel mondo nel maschio in particolare ok le zone più scure sono quelle dove la prevalenza di obesità nell'uomo è maggiore ok andiamo a vedere la stessa situazione nella donna allora nella donna guardate maschietto femminuccia quindi l'obesità è un problema che riguarda soprattutto sì allora questa è la prevalenza di obesità nei maschietti di età superiore a 18 anni la zona rossa è quella dove l'incidenza è maggiore femminucce quindi nelle femminucce la prevalenza è maggiore vedete che il rosso è un po' ovunque eh perché perché è un problema in femminuccia questo allora qui vi ho voluto mettere questa non vi spaventate adesso ve la spiego è la distribuzione del grasso corporeo abbiamo nella figura A e B due donne tutte e due sono in normopeso però hanno una diversa distribuzione del grasso nel senso che nella donna A dov'è il grasso secondo voi bravi si parla di distribuzione di tipo periferico o genoide sicuramente ne avete sentito parlare la donna B anche lei è in normopeso però ha il grasso accumulato prevalentemente arriva all'addominale o viscerale si dice si parla di grasso o distribuzione di tipo androide ok sotto abbiamo la stessa situazione però ci troviamo in due donne che sono in condizioni di sovrappeso allora anche qui non vi spaventate ve la spiego in maniera semplice e semplice esatto glicemie allora qui si sono prese due gruppi di donne un gruppo che aveva un'obesità di tipo androide quindi grasso accumulato a livello della pancia che sono indicate da quel rombo non so se lo vedete piccolino è un gruppo di donne invece che ha un'obesità di tipo ginoide quindi grasso accumulato nei fianchi e nei glutei e questi due gruppi sono stati sottoposti a una curva da carico che cos'è la curva da carico qualcuno di voi l'ha mai sentito allora è un esame nel quale viene fatta bere una soluzione contenente zucchero 75 grammi ok e si va a vedere come va la glicemia con dei prelievi al tempo 0 60 120 e così via allora qual è la curva che ha valori media più alti quelle le donne che hanno il grasso a livello addominale quindi viscerale o cosiddetto androide quindi ricordiamoci che grasso che si accumula a livello della pancia nelle donne ma questo anche nei uomini è causa di patologie allora qui ci vorrebbe la vostra professoressa di arte che è la professoressa Scano allora questo è l'ideale di bellezza femminile come è cambiato nel corso del tempo siamo passati dalla donna di Raffaello Sanzio con delle forme morbide a quella di Rubens che diciamo la verità queste donne un pochettino in sovrappeso avevano anche un po' di cellulite o no? e questa invece l'immagine che abbiamo adesso della donna attuale quindi una donna magra quasi diciamo perfetta senza nessun accumulo di grasso forse un pochettino nei fianchi ma sì alla faccia nostra allora quindi ci si potrebbe chiedere se il grasso è una condizione femminile allora è una condizione femminile sì però l'accumulo di grasso a livello androide quindi della pancia è patologico cioè porta malattie cardiovascolari al diabete quello genoide invece a livello dei fianchi e dei glutei rappresenta una salvaguardia per la specie perché? perché serve alla donna durante la maternità queste scorte sono una forma di protezione assicurano che poi la donna porti avanti la gravidanza possa nutrire il bambino ok non è proprio una questione genetica è proprio una questione anche di conformazione fisica di tante cose comunque il grasso che c'è proprio nella pancia se uno accumula nella pancia deve stare attento perché ognuno di noi poi è diverso e poi l'accumulo a livello addominale è una caratteristica proprio delle donne in menopausa questo allora ho voluto mettere questo quella che è la prevalenza del sovrappeso e dell'obesità in età pediatrica perché se vedete in Italia siamo al primo posto quindi in Italia c'è la maggiore incidenza dei bambini obesi o in sovrappeso quindi questo cosa vuol dire che noi dobbiamo iniziare la prevenzione da subito dall'età infantile perché un bambino obeso sarà sicuramente un adulto obeso è inevitabile si parla infatti di una sorta di epidemia per quanto riguarda l'obesità perché è un problema che riguarda tutto il mondo ok e questo sono quei due studi che vi stavo dicendo che spiegano insomma dimostrano che la dieta mediterranea è una dieta è un ottimo tipo di dieta questi due studi sono lo studio Prevency e Premimed non spaventatevi per i nomi ma sono degli studi che sono andati a verificare se effettivamente la dieta mediterranea è veramente una buona dieta cosa hanno dimostrato che le persone che seguivano questa dieta mediterranea hanno una riduzione del 30% dell'insorgenza di diabete di tipo 2 ok poi una regressione della sindrome metabolica adesso mi direte che cos'è la sindrome metabolica no non è metabolismo lento una persona che ha la sindrome metabolica è una persona che ha diverse problematiche diciamo così messe insieme nel senso che è obeso o sovrappeso ha il diabete o una forma di prediabete e ha anche la pressione alta ok quindi in queste persone la dieta mediterranea porta a una regressione della sindrome poi la dieta mediterranea porta a un miglioramento del controllo glicemico quindi delle glicemie di chi ha il diabete di tipo 2 e una riduzione del rischio cardiovascolare ok il rischio cardiovascolare lo sapete che cos'è rischio di avere infarto o comunque malattie cardiovascolari ok allora e concludo dicendovi che lo stesso UNESCO il 16 novembre 2010 ha dichiarato la dieta mediterranea patrimonio materiale dell'UNESCO quindi se lo dice lui sarà così vi ringrazio per l'attenzione avete qualche domanda io ho scioccato dimmi deve seguire una dieta di un certo tipo certo perché comunque è una patologia molto seria di stare al nutrizionista a indicare quelli che sono gli alimenti che deve seguire comunque altrimenti va incontro veramente anche a malnutrizione e tante altre problematiche certo sì mi dica professore eh posso davvero compensare finalmente che si deve magari con le 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 allora nel vegetariano vegetariano cioè quello che magari introduce le uova per dire i latticini non ci sono problemi nel vegano invece che elimina tutto deve per forza integrare con integratori perché le sole proteine contenute nei legumi non bastano non dovrebbe farlo perché io so di pediatri che hanno denunciato situazioni di questo tipo perché durante l'accrescimento è necessario l'apporto delle proteine animali sono quelle che servono a crescere poi quando diventiamo adulti facciamo la nostra scelta prendiamo gli integratori e dobbiamo prenderli bene perché io conosco persone che hanno fatto la dieta vegana e sono finite all'ospedale per carenza di ferro grave ok a posto passiamo alla dottoressa la dottoressa Pileri siete stanchi facciamo un break lo facciamo un break facciamo un break però di dieci minuti ok dieci minuti di break Matteo lo possiamo fare sì allora dieci minuti ragazzi allora ragazzi cosa si tratta e quindi mi ha dato questi volantini perché si cerca appunto di di aiutare queste persone perché è chiaro che quando si entra in un gruppo deviante poi non si sa mai quando si riesce a uscire deviante voi cosa pensate per un gruppo deviante poi parlerà la dottoressa eh con devianze cosa pensate cosa sentiamo che fanno uso di sostanze che tipo che fanno uso di sostanze oltre uso di sostanze magari anche comportamenti non devianti che può essere anche che ne so la prostituzione rubare tante altre cose si associa in genere che idea vi siete fatti sui gruppi devianti un altro tipo di devianza non ne parlerò era giusto per giustificare questi volantini che vi ho dato perché adesso parlerà la dottoressa Pileri Matteo possiamo iniziare sì ecco allora la dottoressa Pileri io mi chiamo Rina forse non si sente sì faccio la ginecologa e mi occupo della vita della donna nei suoi aspetti personali e sociali essendo stata presidente di varie associazioni femminili e anche ho fatto parte come medico della commissione per le pari opportunità regionale per la regione Stavent quindi occuparmi della vita della donna dalla nascita fino alla senescenza vuol dire la donna anziana adulta è sempre stato il mio cavallo di battaglia oggi la dottoressa Melone mi chiede di partecipare a questo convegno con voi per parlare di relazioni negli adolescenti sentimento e sessualità se non vi dispiace questa lezione ce la facciamo insieme nel senso che io ho in mente di leggere alcune frasi e poi commentarle via via che leggo la frase è inutile fare la lezione magistrale da capo a fondo e poi uno aveva l'idea nella seconda frase non la perde si perde invece così la costruiamo insieme questa deve essere anche una maniera una buona maniera per imparare a discutere a parlare a intervenire ad arrabbiarci a opporci non è che sempre ci dobbiamo sorridere non è che sempre dobbiamo essere perfettamente allineati e d'accordo possiamo essere anche in assoluta contrapposizione perché forse è più da questo che nasce un dialogo una costruzione e un ottenimento di una linea di un percorso che possono aiutarci nella vita quotidiana e quindi io inizierei a parlare dell'adolescenza che è un periodo che la dottoressa Meloni ha delimitato nel tempo fino a 24 anni nelle donne fino a 25 nei maschi sempre un po' più di tempo ci mettono i maschi e parliamo di una cosa di cui è difficile parlare parliamo del sentimento cioè delle relazioni sentimentali della nascita e della trasformazione del sentimento e anche dell'attività sessuale quando si manifestano come mai si manifestano e quali sono i tempi ma anche cos'è che ci succede dentro e perché questo succede e perché questo è così importante perché non c'è nulla nella nostra vita che succeda che non sia importante importante nel senso che serve per la procreazione che serve per il mantenimento della specie che serve per condurre una vita sana che serve perché l'umanità prosegua in questo cammino nel mondo quindi utilizzando il mondo l'umanità procede secondo dei canoni stabiliti da che cosa? dalla nostra genetica dalle nostre opportunità ambientali chiaramente voi capite che uno che vive in Australia che è il top del top anche oltre il livello americano è molto diversa dalla vita che si può fare in Congo quindi il genoma determina il genoma è il patrimonio genetico che risiede nei geni situati nei cromosomi costituiti di DNA queste sono le parole che voi ormai conoscete da tempo e questo genoma viene modificato quindi agevolato oppure costretto dalle condizioni ambientali e sociali capite bene che lunghi periodi di carestia modificano quell'aspetto ginoide e androide fino al punto da condizionare la mancanza di fertilità voi pensate che nelle giovani donne una delle cose che si chiama amenorrea che vuol dire assenza del ciclo mestruale si verifica quando la donna va sotto i 40-42 di peso che vuol dire di qualunque età di qualunque età stiamo parlando del peso medio che è necessario per avere un ciclo mestruale che vuol dire una opportunità per la specie di procreare perché se non c'è un ciclo mestruale non c'è un'ovulazione quella cellula uovo non viene messa a disposizione dello spermatozoo che puoi incontrarla e quindi non c'è non c'è crescita non c'è una prospettiva di crescita per l'umanità le cose sono talmente strettamente intersecate il nostro stile di vita le nostre abitudini di vita le nostre opportunità ambientali e culturali determinano la vita futura dell'umanità nel mondo voi ora pensate a queste enormi migrazioni che ci saranno dall'Africa perché loro vivono 7-8 anni di una carestia totale 6 anni 5 anni che non piove una goccia d'acqua le condizioni ambientali sono abbastanza devastanti per una popolazione la popolazione deve spostarsi la popolazione che vive lì è una popolazione destinata a soccombere perché non c'è il cibo perché non c'è l'acqua che sono gli strumenti necessari perché un corpo umano possa vivere ma non basta vivere in modo ostentato devi vivere in modo il più possibile normale perché il corpo possa esplicare le sue funzioni e a questo proposito stiamo parlando delle funzioni sessuali e riproduttive che vengono come dire proposte nell'adolescenza con la nascita della sessualità a che cosa corrisponde nell'adolescenza la nascita della sessualità corrisponde alla maturità degli organi sessuali sia maschili che femminili cioè si passa dalla dal bambino in pubere alla bambina in pubere che vuol dire prima della pubertà alla comparsa di caratteri sessuali genitali sia interni che esterni sia primari che secondari che portano alla maturità sessuale e quindi alla possibilità di procreare l'anatomia e la biologia dei nostri apparati genitali sono la base su cui si instaurano la sessualità il desiderio e il sentimento e per tornare a parlare dei gruppi nulla più del gruppo del gruppo amicale del gruppo dei pari del gruppo dell'altro sesso è necessario perché la sessualità possa esplicarsi perché le relazioni interpersonali possano manifestarsi voi vivete questo momento dell'adolescenza un momento importantissimo lo vivrete fino all'età di 25 anni o di 24 e conoscete bene le cose di cui vi parlo ma alcune ve le voglio sottolineare io proponendovele e vedendo cosa salta fuori da questo nostro bellissimo gruppo di oggi iniziamo a leggere un paio di cose la nascita della sessualità e lo sviluppo della vita sentimentale sono eventi centrali in adolescenza e occupano a tal punto la mente dell'adolescente più di altri problemi evolutivi tanto da venire considerati come il compito evolutivo centrale dell'adolescenza che vuol dire che se la sessualità non si sviluppa e se questo non segue la crescita dell'apparato genitale sia maschile che femminile non c'è fortuna non c'è fortuna per la nostra per la nostra società quindi il compito evolutivo centrale dell'adolescenza è proprio questo di prestarsi alla crescita del sentimento e all'utilizzo della sessualità naturalmente queste sono delle componenti voi sapete che socialmente prima ci si sposava a 19 anni a 19 anni famiglie sarde avevano già due o tre bambini la donna di 19 anni aveva già partorito una, due, tre volte oggi invece questa distanza che si crea tra la data del matrimonio e l'inizio dell'attività sessuale dà la possibilità alle donne e alle famiglie nuove di essere più consapevoli e di esprimere anche un consenso un sì o no sull'utilizzo della fertilità cioè sull'opportunità o no di procreare una per inciso la Sardegna è la regione d'Italia in cui si procrea meno non perché si fa un uso sbagliato della sessualità ma una delle condizioni più importanti è che si fa più contraccezione infatti l'avvento della contraccezione e la conoscenza dei meccanismi biologici della procreazione aiutano moltissimo le giovani donne e le giovani coppie perché i figli non sono solo delle donne sottolineare proprio l'importanza che l'inizio della sessualità ha per la nostra evoluzione e quindi noi diciamo proprio come compito evolutivo fondamentale non è una cosa banale se c'è c'è e se non c'è non fa niente se non c'è si ferma l'umanità l'adolescenza è fatta così e ha queste caratteristiche perché è necessario per continuare a vivere avere questa pulsione verso la sessualità e quindi coltivarla crearla accompagnarla nel tempo fino alla procreazione e alla creazione di una famiglia di un nucleo in cui è possibile allevare un figlio zitta? va bene sto zitta le ne leggo un'altra no ditemi io qui sto dicendo quanto è importante per l'umanità che l'adolescenza abbia questi momenti fondamentali della vita e perché nell'adolescenza questo si manifesta? perché quello è il momento in cui gli organi che sono presenti fin dalla vita embrionale già inutero il feto a tutti gli organi però non tutti vanno a maturità insieme per esempio l'apparato urogenitale poi si scinde le due cose embriologicamente sono la stessa cosa infatti l'apparato è urogenitale poi l'apparato genitale mentre noi uriniamo da sempre da quando nasciamo non abbiamo mestruazioni da sempre c'è bisogno di un lungo periodo di preparazione di solito intorno ai 12 13 anni questo succede ma può già succedere a 9 anni questo prepara la maturità sessuale con la produzione di ormoni da parte di quegli organi che sono poi capaci di diventare i fautori della nascita del nuovo figlio senza un apparato genitale maschile o femminile maturo non è possibile la procreazione ma questa procreazione non è accompagnata solo dalla nascita di un bambino ha dei preliminari fondamentali che sono quelli dell'innamoramento che sono quelli del desiderio sessuale che sono quelli del bisogno della compagnia dell'altro ci sono delle caratteristiche che differenziano la donna dall'uomo già dall'adolescenza per esempio i ragazzini gli adolescenti di sesso maschile prediligono soprattutto quando sono piccoli prediligono le donne più grandi naturalmente questo percorso si inverte via via che crescono via via che crescono gli piacciono le donne più giovani e in più c'è un'altra differenza fra l'uomo e la donna sempre nelle modalità di ricerca di coppia le donne cercano nell'uomo il più forte quello che socialmente si propone meglio perché questo dà speranza di opportunità per la prole non è perché è più bello perché è più figo perché veste meglio o altro c'è sempre un meccanismo che porta alla procreazione questo noi lo dobbiamo interpretare perché sottende tutto il nostro comportamento è vero che a volte non ci pensiamo mentre i maschi prediligono le donne che sono più atte alla fertilità loro non lo sanno ma scelgono quelle più formose più adeguate più delicate più desiderabili subito che permettono loro una procreazione avanti dimmi e perché no? vieni vieni dell'essere umano è certo perché l'umanità possa continuare ad andare avanti da quella famosa foto da neandertaline non vuole sposarsi non vuole avere una famiglia queste sono scelte personali certo però non è che ti viene preclusa la possibilità di procreare semplicemente non vuoi e questa è la tua scelta giusto? però se più c'è gente che non vuole farlo più è meno l'umanità ha opportunità certo siamo in prigione insomma è un po' una cosa inevitabile no a noi vengono offerte delle opportunità l'opportunità di procreare è quella che insita nel nostro DNA tant'è che siamo fatti così e non in un modo diverso proprio per favorire la procreazione perché senza procreazione non c'è specie ma ogni specie nasce e ha un genoma che codifica la procreazione perché la specie possa andare avanti e anche migliorarsi ma non è una gabbia anzi è una grande libertà tu pensa solo che siamo la regione che procrea meno perché utilizza più contraccettivi vuol dire che le donne sarde hanno preferito dare uno stop alla spinta alla procreazione con la possibilità che la scienza mette a disposizione di poter assumere un contraccettivo continuiamo a parlare di gabbie quello che vogliamo nel senso che comunque magari spesso è vista come una costrizione da parte della società è un'opportunità no no non è una costrizione tu sei fatta per fare anche quello a meno che non voglia fare altro capito però invece tu pensa che ci sono donne che hanno che non hanno questa possibilità che tutta la vita cercano la possibilità di procreare se non con il loro utero con un utero in affitto se non con un loro ovulo con un ovulo acquistato anche ad alto prezzo fanno il giro del mondo pur di poter avere l'opportunità di essere madri quindi tu hai la possibilità di essere madre se non vuoi non è un problema ma per chi questo problema ce l'ha è un dramma non riuscire a esserlo cioè per una fertile prende un contraccettivo ed è libera ma per una che fertile non è i drammi sono di di altro peso è un'altra valenza raccontate grazie andiamo avanti e andiamo avanti che sapete tutto l'evoluzione della sessualità in adolescenza comporta un complesso adattamento al mutamento della propria immagine fisica e al funzionamento del proprio corpo come dicevamo inizia la pubertà va secondo cinque stadi dall'inizio della comparsa del telarca alla peluria pubica alla peluria cascellare la distribuzione dei peli in tutto il corpo che creano anche un dimorfismo sessuale cioè anche questo è diverso nell'uomo e nella donna mentre nella donna per esempio per parlare della peluria pubica è disposta a triangolo con l'apice verso il basso nella donna con un taglionetto nell'uomo invece questo taglionetto non c'è e la peluria pubica risale fino alla cicatrice umbilicale più facilmente nell'uomo il testosterone crea una peluria diffusa sul corpo anche sulle spalle cespuglietti fino al collo un collega poverino doveva rasarsi tutto il collo ed era fastidiosissimo ma era la sua distribuzione dovuta al suo testosterone quindi la crescita di questo apparato genitale crea queste opportunità e dicevamo l'adolescenza ha questo comportamento che non è più omogeneo come nel bambino il bambino è il bambino finché non inizia la pubertà una volta iniziata la pubertà il comportamento della donna e dell'uomo non sono più dei comportamenti omogenei ma sono dei comportamenti dettati per esempio dalla produzione ormonale dal cambiamento fisico dalla modificazione dell'umore dall'accompagnare un ciclo altalenante per esempio come nella donna noi sappiamo che questo ciclo mestruale è dovuto alla produzione di due ormoni fondamentali che sono l'estrogeno che prepara la cellula uovo nell'ovaio cioè l'ovulazione con la liberazione della cellula uovo e poi il progesterone che viene prodotto sempre dall'ovaio dove c'è stata l'ovulazione e che crea a livello uterino un endometrio soffice un tessuto soffice dove è possibile l'annidamento di un embrione se quella cellula uovo ha incontrato uno spermatozoo nella tuba queste sono le opportunità durante queste fasi alterne del ciclo mestruale tutto tutto cambia e soprattutto all'inizio c'è anche una fase un umore altalenante sensazioni nuove che non si conoscevano adesso la donna le vive a volte le deve affrontare anche con intenso dolore perché ci sono donne che hanno una dismenorrea cioè un dolore mestruale intensissimo che a volte toglie dalla vita dalla vita sociale perché ci sono quei due o tre giorni in cui la donna deve necessariamente poter stare a riposo a casa cioè non è tutto un sogno la procreazione essere anche pronti alla procreazione a volte ha dei problemi chiedi chiedi adesso ne leggiamo un'altra modelli di interpretazione delle relazioni sentimentali adolescenziali modelli l'adolescente si trova ad affrontare il problema della riorganizzazione dei propri ruoli affettivi e dell'integrazione dei diversi sistemi motivazionali nella nuova identità il corpo cambia cambiano i rapporti e cambia anche ciò che uno riesce a vedere cambiano e si demoliscono i rapporti precedenti direi che lo stile sentimentale può essere influenzato sia dai genitori che dal gruppo dei pari si diventa infatti amici degli amici dell'altro sesso stringendo una relazione intima d'amicizia che però non può essere ancora considerata una relazione sessuale e questo voi l'avete già vissuto lo vivete tutti i giorni vedete come nasce con quale gentilezza ma anche con quale desiderabilità nasce nella mente l'aver visto la donna che vi sembra quella giusta o il ragazzo che vi sembra quello finalmente adeguato a voi poi va bene i temi della classificazione di come nasce un rapporto non servono a nessuno l'amore sessuale invece è maturo quando integra l'eccitazione sessuale con la tenerezza dove c'è la capacità di identificazione con l'altro con una reciproca identificazione empatia e idealizzazione cioè quest'altro questo che ci ha sollecitato questo che questo che abbiamo visto deve avere delle caratteristiche importantissime perché noi possiamo vederlo quando questo si verifica inizia un amore sessuale di tipo maturo che non è più soltanto il desiderio per esempio ci sono ragazzi ansiosi che hanno numerosissimi rapporti senza desiderare nessuno è una cosa che è più legata al loro timore di essere negati di non essere visti di non essere voluti ma non fa parte di questa sfera invece della quale parliamo noi adesso che è l'amore sessuale maturo le difficoltà di integrazione sessuale dell'adolescenza possono comprendere il caso in cui l'oggetto del desiderio non coincide con quello dell'attaccamento che stiamo dicendo che si questo succede soprattutto per i maschi che hanno sono agevolati in questo ma io desidero l'altra capito non vi dovete sorprendere questo non è un progetto una cattiveria una furbizia no sono i primi rapporti crescono così nascono così perché non lo sanno neppure per esempio ci sono delle valutazioni sulla durata dei primi rapporti dei primi rapporti sentimentali che non durano più di 14 mesi mentre invece via via col crescere nell'età di questi stessi soggetti i rapporti si allungano nella durata diventano rapporti di anni di 2 3 4 5 anni anche rapporti per sempre io per esempio sono una un esempio io ho conosciuto mio marito nelle scuole superiori avevamo 16 anni e siamo stati insieme tutta la vita quindi si può ma non ci siamo annoiati mai sì perché tutti questi e non ci siamo annoiati mai siamo sempre stati contenti di esserci scelti quindi dovete capire bene quando si usano le parole non è che dietro c'è quella cosa curiosa che dicono la malignità non è la malignità è l'attrazione adesso vediamo quest'altro concetto il comportamento sessuale degli adolescenti le cose sono cambiate rispetto al passato ora rapporti prematrimoniali sono una cosa normale la masturbazione non è più vista come un peccato o come dannosa per l'organismo e anche l'omosessualità è vista sotto una luce diversa la maggiore libertà sessuale è stata determinata dalla diffusione della contraccezione e dalla accentuazione della tendenza storica all'aumento della distanza tra la maturazione sessuale e il matrimonio come vi dicevo prima e questa posticipazione del matrimonio ha portato ad un aumento della permanenza dei giovani nella famiglia sembra che alcuni giovani adolescenti di oggi arrivino al rapporto completo senza preliminari o con sempre un rapporto e non sempre un rapporto sessuale e la relazione sentimentale coincidono inoltre a differenza del passato anche un rapporto sessuale in adolescenza è una cosa abbastanza normale non è più per esempio molto scoraggiato anche in famiglia se la tua sorella grande sa che hai avuto un rapporto non è che ti condanna adesso stai attenta ti insegna ti conduce però non c'è più questo abominio prima avere un rapporto sessuale prima del matrimonio era una cosa terribile voi pensate soltanto al delitto d'onore che una donna non poteva avere un rapporto prima del matrimonio è perché doveva arrivare il matrimonio vergine e c'erano certe regioni del sud Italia in cui si doveva esporre il lenzuolo macchiato di sangue che era il segno che quella verginità conservata fino a quel momento era stata interrotta vabbè infatti hai ragione dovevano usare un pollo ammazzare un pollo usare il sangue del pollo hai fatto un'obiezione giustissima perché lei giustamente dice ma l'imene a volte è compiacente è elastico non sempre l'imene si rompe anzi frequentemente l'imene non si rompe e quindi non ci può essere il sanguinamento brava vediamo dica risale alla nostra infanzia risale alla mia infanzia per esempio no le volevo chiedere invece se diciamo un po' in questa analisi che sta facendo del legame a sessualità adolescente se invece c'è il problema contrario oggi cioè i ragazzi sentono il peso invece di una performance in ambito sessuale se si sente molto questa cosa i ragazzi la sentono cioè di essere all'altezza di certo infatti anche l'utilizzo anche l'utilizzo di certe sostanze anche l'utilizzo di certe sostanze espone a questo bisogno di essere assolutamente performanti di essere certo certo adesso glielo chiediamo glielo chiediamo dai chiediamolo adesso si vergogna no i ragazzi ci insegnano questo sentiamo un pochino che questo è un problema sì è un problema che facilmente si vince conferma no nel senso che è un problema soprattutto per cioè è più un problema per i maschi che per le ragazze non è non è solo così no vabbè diciamo diciamo una cosa permanenza dico eh vabbè però dal punto di vista magari della donna chi sta parlando sai che non ti vedo io ah scusa magari non è più un fatto di durata ma un fatto di insicurezza per magari il fisico o comunque perché si pensa di non essere apprezzate o comunque c'è anche il fatto del secondo me di non piacersi esteticamente influisce anche in quello perché pensi che magari visto che non ti piaci tu non piaci manco all'altra persona certo per proporsi è necessario avere di sé gradimento è più difficile non è impossibile perché poi anche lo scorfano più terribile è amatissimo dal più bello della classe perché ci sono altri meccanismi che fanno scattare la desiderabilità il rapporto sentimentale non è soltanto basato sulla pretesa prestazione sessuale anche perché uno non vedendo l'apparato genitale del maschio e il maschio non vedendo l'apparato genitale della femmina nulla sa di quella è vestita sto parlando del momento in cui nasce il desiderio perché nasce tra persone vestite quindi non è mai l'apprezzamento diretto dell'apparato genitale di quello o di quella che fanno scattare il desiderio il desiderio nasce prima poi si conferma poi nasce altro però i ragazzi ci potrebbero aiutare sentiamo un attimo ragazzi aiutateci perché ci serve capire noi capiamo che che per voi la prestazione la prestazione la prestazione di tipo sessuale è una cosa complicata perché si vede mentre invece se una donna fosse una donna anorgasmica cioè una donna che non ha un orgasmo non si vede ci metti cinque minuti di teatro è convinto che invece funzioni così non è nel maschio diciamo che c'è una pretesa erezione e c'è un preteso comportamento che purtroppo è evidente quindi è normale che il maschio abbia un problema di prestazione che un po' lo condiziona ma questo quando si tratta di avere un rapporto sessuale punto ma quando il rapporto sessuale nasce in una coppia che si sta formando in una coppia in cui c'è una relazione sentimentale cioè di sentimento e su quella relazione sentimentale nasce il desiderio non è più importante neppure l'erezione perché ci sei tu che sei più importante di tutto il resto la figura desiderabile sei tu quando io ancora non conosco nulla delle tue possibilità capito quindi questo porta a capirsi a perdonarsi ad accettarsi a creare una coppia stabile un'intrico un'intricata come dire con partecipazione alla stessa cosa cioè al fare una coppia una coppia che si ama una coppia felice una coppia con una profonda relazione sentimentale anche se abbiamo letto non sempre l'oggetto del desiderio è quello che amiamo e questo finché non si perché l'adolescente non ce la può fare non lo sa oggi ti piace Francesco e dopo domani di Francesco ma chi è Francesco cioè è un'altra cosa ma non perché c'è una volontà nello stare con Francesco nel dimenticarlo perché queste sono le opportunità che l'adolescenza offre iniziamo a leggere le cose con chiavi di lettura più numerose di quelle che ci vengono proposte abitualmente questo è nella nostra vita andiamo visto che i maschi non ci hanno voluto aiutare disgraziati ci sono pochi forse sono timidi rispetto ma abbiamo i migliori del nord Sardegna relazioni sentimentali non poco frequente è il caso dell'amore platonico tra adolescenti in quanto questi spesso vendono il legame sentimentale come un gioco come una cosa da esplorare da sperimentare sembra che i maschi tendano a scegliere le donne più grandi quando sono piccoli e poi crescono e poi crescendo la tendenza si inverte la durata media di una relazione è di 14 mesi che aumenta però progressivamente nel tempo con l'età il percorso di costruzione della vita sentimentale è comunque molto variabile ma sono stati lo stesso ma sono stati lo stesso individuati alcuni comportamenti molto diffusi cioè cercato di catalogare vari comportamenti negli adolescenti ad esempio nelle elementari e nelle medie i giovani interagiscono di più con i compagni del proprio sesso spesso evitando quelli dell'altro sesso e questo cambia quando si raggiunge l'adolescenza e si va nella scuola superiore sentimenti e sessualità ci sono evidenti differenze nel modo in cui i maschi e le femmine hanno un rapporto con il loro desiderio sessuale in cui e in cui vivono le loro relazioni sentimentali ad esempio le ragazze più in funzione delle loro capacità di acquisire risorse ricchezza stato sociale mentre i maschi valutano le ragazze in base alla loro capacità riproduttiva la bellezza fisica e via dicendo le ragazze inoltre ricercano una maggiore intimità dei maschi intesa come vicinanza emotiva e queste differenze sono l'effetto di predisposizioni biologiche che si manifestano in comportamenti etologicamente condizionati e di ideali di ruolo socialmente determinati che cosa vuol dire questo etologicamente determinati l'etologia è quella che compara la vita degli esseri del pianeta per esempio questo etologo il più importante quello che ha scritto il cosiddetto male Conrad Lorenz era uno che aveva iniziato a studiare le papere e vedere come creando certe condizioni per esempio se invece di vedere la madre quando la paperetta esce dall'uovo invece di vedere la madre vede me segue me invece di seguire la madre perché è talmente condizionante l'ambiente che ti si propone certo invece la paperetta avrebbe bisogno di andare in acqua ma se viene con me in acqua non ci va quindi è una vita snaturata dalle opportunità che l'ambiente ha offerto allora l'etologia è questa che confronta i comportamenti di un certo essere per esempio in questo caso erano le papere ma i cani le scimmie gli orsi tutti vengono studiati e rapportati con questi codici per vedere anche quanto c'è nella vita umana anche nelle vite degli altri animali quanto per esempio che differenza c'è fra l'uomo e lo scimpanzee un po' per capire l'origine darwiniana tutte queste storie che sono l'impasto della nostra esistenza quindi all'adolescenza qui dice è stato dato questo compito della ricerca del compagno e della compagna perché è su questa base quindi sul supporto sentimentale sul bisogno della confidenza sul bisogno del supporto affettuoso su questo si basa l'opportunità o no della procreazione ma anche di vivere una vita appagante per il soggetto sia uomo che donna vediamo se trovo qualcosa che vi scatini allora manifesto dei comportamenti etnologicamente condizionati allora fantasia e masturbazione c'è stato un cambiamento culturale nel modo di considerare la masturbazione considerata inizialmente come pericolosa psicologicamente e fisicamente secondo Laufer la funzione psicologica della masturbazione se spesso caratterizzata da fantasie di tipo regressivo è di aiutare l'io a riorganizzarsi ci sono interventi sulla masturbazione è una cosa normalissima che tutti gli esseri compiono anche quelli che stanno pensando di no è una cosa che è stabilita nel DNA per accompagnare per preparare per organizzare per conoscere il proprio corpo è una cosa necessaria una cosa di cui oggi si può anche parlare negli anni 60 negli anni 70 ma se tazzardava a pensare una cosa o parlarne con una intanto la cosa più frequente era che era una vergogna e poi che per cortesia ci fosse un po' più di decenza che di questi argomenti non si poteva neppure trattare e poi parliamo di un'altra cosa ancora dell'omosessualità il 10% degli adolescenti si considera gay lesbica o bisessuale la prima consapevolezza della propria omosessualità si ha intorno ai 13 anni per i maschi e 16 anni per le femmine e se una volta era considerato un disturbo oggi l'omosessualità è considerata una modalità di sviluppo legittima mentre resta classificato un disturbo la cosiddetta disforia viene considerato un disturbo l'identità di genere cioè il rifiuto del proprio sesso e quindi la ricerca e il bisogno di cambiare sesso perché è una cosa che ti perché ti allontana dal tuo essere in quel momento se tu sei maschio ma sogni di essere sogni di essere donna e vai avanti con un una procedura molto difficile intanto c'è il cambio del nome quindi deve per forza intervenire il magistrato perché si tratta di cambiare tutte come ti posso dire tutte le tue caratteristiche che nel sociale erano considerate da uomo e devi cambiare il nome e devi prendere il nome di una donna ci vogliono 5-6 anni perché questo possa succedere con interventi chirurgici susseguenti con creazioni di neovagine perché chiaramente è una una condizione la trasformazione dell'apparato sessuale per creare un apparato sessuale diverso che però somigli almeno un po' a quello dell'altro sesso comporta dei percorsi sia di tipo legale che chirurgici e relazionali perché anche la famiglia che ti ha sempre chiamato Paola non ti chiama Giuseppe è tutto un divenire lento però la famiglia che ti rispetta e capisce questa tua difficoltà ti accompagna in tutto il percorso e alla fine sei un Giuseppe troppo capito l'importante è che passi e in questi momenti deve passare il rispetto che se tu sei Giuseppe sarai Giuseppe più bello che c'è a me non importa e non ci sono i sorrisetti e gli ammicamenti questo è la parte peggiore dell'essere umano noi siamo qui per imparare a stare insieme a capire a rispettarci per affrontare i temi che ci servono perché se voi domani dite alla dottoressa a me lui dottore ma sa che ci interessa affrontare questo problema lo facciamo io sono a disposizione già da oggi noi alle richieste delle scolaresche per forza dobbiamo dare una risposta se no è vana la nostra presenza in questo ruolo noi siamo qui se è possibile per dare una mano ma se si vuole fare una cosa contro l'alcolismo o contro il fumo o sull'omosessualità noi siamo pronti siamo disponibili dobbiamo solo ripassare alcune cose e siamo qui non sentitevi soli a volte siete soli perché non sapete chiedere invece dovete stimolarvi tra voi ma ce la facciamo fare una lezione anche perché così a scuola non ci andiamo è una cosa che deve scattare da voi deve scaturire dal vostro interesse reale noi siamo qui e vi accompagniamo volentieri poi avete le insegnanti sono qui sono belle intelligenti attente e dovete usarle usare loro come l'opportunità che la loro presenza vi dà per affrontare con gli specialisti di questi settori affrontarle sono dei regali che le vostre insegnanti vi fanno le opportunità di star qui a chiacchierare e anche a toglierci quei dubbi e toglierceli con le risposte immediate ti viene il dubbio ne parliamo risolto e oggi abbiamo fatto una cosa porta a casa take home porta a casa non non è possibile oggi che la scuola non si occupi di certe problematiche sociali così importanti senza attingere dalla conoscenza dei ragazzi cosa volete sapere una cosa sono i programmi ministeriali altro è chiedere a voi cosa vi interessa ma cosa interessa a te oggi è inutile che tu sappia queste risposte fra tre anni e mezzo ti sarebbe servita ieri perché oggi non avreste avuto il dubbio ci siamo noi vi ringraziamo anche per questa paziente presenza e per questa intelligenza che avete negli occhi che ci fa proprio piacere interpretare come vivacità come espressione di una attenta comprensione di tutto ciò che abbiamo raccontato l'abbiamo fatto per voi l'abbiamo fatto volentieri siamo disponibili per fare altro passiamo la parola alla dottoressa Meloni ringraziamo la dottoressa Pileri se qualcuno vuole fare delle domande vi vedo un po' stanchi forse sono già quindi se non ci sono domande concludiamo facciamo un applauso alla dottoressa ringraziamola ringraziamo anche Matteo Matteo non lo so Matteo è sempre presente e ci permette appunto ci riprende con adesso non so come sia il video ma immagino quando ci riprende con coraggio ringraziamo Matteo che è il tecnico che ci riprende ed è bravissimo in tutte le riprese ci permette anche con il direttore che oggi non è presente il dottor Marco Ronchi che ci permette di usare la biblioteca sempliciana in modo diverso rispetto alla scuola perché è chiaro magari vi fate anche la passeggiata però non è la solita classe o dove fate le riunioni è un poi non so cosa potete dire voi è un ambiente diverso magari dove qualcuno si sente più libero anche di parlare va bene ok grazie a voi e grazie a chi ha collaborato anche alla dottoressa Sara che è l'insegnante del liceo scientifico speriamo di fare altri incontri di prendere da voi secondo me potete portare anche voi gli argomenti se vi piace un argomento poi possiamo decidere insieme va bene grazie grazie a tutti 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 grazie a tutti